perché cosa è troppo povere per permettervi due cuffie diverse sì sì problemi poveri ok me le paghi tu perché soprattutto le tue guaglie le tue guaglie si illuminano di rosa tipo perché un filtro o se radioattivo ciao ma è assisto grazie frase uno sbirro ovvio no allora posso farti vedere questa magia anche io sono un mago lo sai ok guarda che magia poi vuoi vederla mia basta che non mi usci il cazzo no che cazzo non lo so guarda sono intrappolati come faccio a usare questi filtri sul suo amico buono insomma sono le trade del supermercato bevuti di meglio al bar raccontami una barzelletta in velocità una barzelletta in velocità così al volo non lo so dai io sono una barzelletta ovviamente dovresti già ridere ok io sono un clown ok tu non sei il clown tu sei l'intero circo questo fa ancora più ridere esatto sono tutto il circo tu raccontami una barzelletta immediatamente non lo so una questione di vita o di morte pensaci non so le barzellette si è appena giocato alla vita swag ciao perché sei spandato in americano hai hai secondo me lo ne ho prima alla faccia dell'italiano qualcuno che bello l'inglese sei molto bellissima grazie hai stato in italia? cosa? hai stato in italia? sei un figlio no sono reale se sei reale dimmi la differenza tra un pugile e una lavatrice un pugile non è una donna sei un figlio sei un figlio di america? no perché credi che sei un figlio di america? perché hai una flaga americana tu hai un figlio di america è vero da dove sei? sei un figlio di america bello che sei? in Italia puoi parlare la lingua italiana? sì anche io come mai? dove l'hai imparata? sono di Ucraina ma un giorno mi sono svegliata e ho deciso non sono italiana io sono di Ucraina sì, un giorno ti sei svegliata ed eri italiana no no dico che un giorno mi sono svegliata e ho deciso perché non cominciare a studiare la lingua italiana sì chi sei tu? questo cazzo se non vesti mio guarda ok giuro che è tutto normale stiamo cercando il nostro amico aspetta questo è normale io ho visto uno uguale a te che è lei che è lei no che mi ha risposto sto cazzo è lei è la mia migliore amica stronza questa qua è lei è lei è una merda perché devi mandare a fanculo tutti perché grazie tu mi stai più simpatico insomma io ti ho visto dal quadro della madonna già ti ho visto due volte eh? dal quadro della madonna ti ho visto tre quattro volte sì me lo ricordo benissimo una volta abbiamo parlato non è vero non ho parlato non ho parlato non ho parlato di qualcosa simpatico non ho parlato non ho parlato non ho parlato allora preparati per la quinta ciao hello eee maro spara mi bello ma co ma come oh ah non vuoi morire così perché hai una pistola perché l'ho comprata dai cinesi ah è finta eh certo guarda il palino rosso parami ma no ma non era lui bene era lui ma qual era lui non era lui no non ero io non ero io non ero io non ero io io sono nato magari ti somigliava sì sì faccia comunissima ma dove sei? eh nord dove? mica un terron come voi due eh no praticamente la bora è il maestrale sembrano due ma sono 20 mi sto capendo ma perché? ciao io hai un righello? eh dipende da quanto ti serve ma anche piccolino va bene no mi dispiace piccolino no beh che grande allora va bene no vabbè il senso era quello però vabbè non era così no vabbè più o meno dovevamo capire quello alla fine quindi ci sta che che è che è Grazie.